E ciao a tutti ragazzi benvenuti qui in questo nuovo video bentornati qui su Rise of the Tomb Raider Signori come annunciato nello scorso episodio ovvero l'ultimo riguardante la storia Siamo qui in questo episodio extra per andarci a fare le tombe rimanenti Allora siamo qui nella città perduta Allora io devo essere sincero con voi altri Non gioco a Rise of the Tomb Raider praticamente da quando ho finito la serie E ormai si parla di mesi visto che era maggio ed era finito il lockdown Quindi poi capite bene che Tomb Raider me lo sono proprio bello che è dimenticato Però siccome adesso nel periodo in cui sto registrando questo video la serie è quasi conclusa E devo fare questo video ho detto ok campioni dobbiamo sbrigarci Allora qui c'è una tomba ma io non so dov'è quindi la dovrei anche cercare Porca 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 troia ok cerchiamola e vediamo un po' se la troviamo Ok tomba della sfida opzionale in zona ovviamente dove c'era la grotta È normale no? Che cazzo era? Ah mi sa che qua ci stanno i cinghiali è vero Ah no aspetta no fermo 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 qui in zona ci sono anche gli orsi Olly fucking molly Allora fermi un secondo come stiamo messi vabbè ci abbiamo eventualmente le cose no? Mi sembra eccessivo quanto appena fatto Ma va bene Perché stavo provando una cosa Preferisco ho preferito provarla prima anziché Dover attendere Vedi che qui c'è un fottuto orso Ok però entrando lì dentro Senti imbracciamo il fucile a pompa con i proiettili infiammabili Che almeno Gli sfanniamo la capa a sto orso se ci sta No? Piano eh Allora ferma Animale raro prendi l'arco Metti le Le frecce avvelenate Porco zio Vai col pompa Mori Mori bastardo Mori Mori Eh ma la dama non muore Ma è Fortunatamente incredibile Ma che siamo matti Limo ritacci de deo Vabbè però l'abbiamo fatto L'abbiamo fatto in modo anche molto easy Perfetto Ok Perfetto Allora mo Tralasciando che Fammi costruire le altre frecce Perché insomma Non si sa mai Allora qui c'è un cervo che è morto a primavera Ho tre pelli Allora Leva la Posso levare il marker da qui Ok Tanto la tomba della sfida opzionale dovrebbe essere tecnicamente qui dietro Eh Eh si andiamo Andiamo facciamoci La prima Non so io se la webcam è troppo zoomata ma penso che vada bene Tanto alla fine Non è che c'è molto da vedere Allora Non dovrebbero esserci animali qui Visto che eravamo dietro Siamo dietro un muro praticamente Adesso sarà interessante Tomba della sfida opzionale Era sconosciuta Sarà interessante vedere quale enigma ci attende La parte qui che c'è un forziere Che lo apriamo immediatamente Con quale mappa comunque eh Questo giocone Allora lì c'è qualcosa di luminescente Qui se mi butto non muoio Forse BANZEI WIIIIIIIIIIIIIII Ma mamma mia Lara cagnotto la chiameremo d'oggi D'ora in poi D'ora in poi Diciamo che questo è l'ultimo episodio Quindi Per questi episodi basta E raga è probabile che questo episodio sia molto lungo Sai? Sapete? E' molto probabile perché se dobbiamo farci quattro tombe La vedo greve Vai giù Lara Fortunatamente non abbiamo più problemi Di rischiare la vita Visto che abbiamo il respiratore E insomma guarda che grottarella Comunque la strada solo di qua portava Quindi non è che abbiamo avuto Tante alternative A meno che non mi sono rincoglionito E che potrebbe essere Oh la madonna Ma che cos'è? What? Ma ragazzi Se? Se 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 Ma io giù non posso andare No penso che lì sia inesplorabile Sala dell'esorcismo Tomba della sfida opzionale Ok ci siamo Ci siamo Adesso Parliamo di quella porta Giusto? Ho capito Ho capito Sto cercando Di analizzare il luogo in cui ci troviamo Allora Allora Credo che debba attaccare qualcosa Lì e poi lì per Allora Innanzitutto Vediamo cosa succede Se tiriamo giù queste leve Che il secchio va giù E lì si apre Però torna su quello Sì perché si svuota Quindi tecnicamente io dovrei abbassarli entrambi Se io li abbasso entrambi Lì qualcosa sicuramente Accadrà Allora facciamo un attimo E due Credo che quello serva alla fine Ah no aspetta Perché mi leva l'acqua da sotto Ok devo andare a vedere cosa c'è sotto dunque Allora Un momento eh Bisogna analizzare Bisogna analizzare E decidere come muoversi Allora Qui c'è C'è questo Che tecnicamente Ah Vuoi che tecnicamente Questo mi si apre E mi permette di farlo uscire Allora però Noi Abbiamo capito Che quei secchi Facendoli abbassare E poi facendo esplodere Questo centrale Mi toglie l'acqua Però Allora quindi io Credo di aver capito Credo eh Non me ne vogliate Se sbaglio malamente Però allora Se questo facciamo così E questo facciamo così E poi faccio così Quindi non posso Dai che si è rotto Ma dai che è rotto Gesù Impestello E io sto coso Come lo rompo Ah porca troia C'è questo qua Che la blocca Vaffangula Mamma da Quindi Tirala un po' De qua Dovrebbe andare bene Vediamo se funziona Adesso per forza Spettacolo Pirotecnico Signori Perfetto Ci siamo Nice Qua è tutto pieno Questo lo possiamo prendere Questo lo possiamo aprire Madonna Quante robine incredibili Vai Apri La crypt C'è la crypt Vabbè Il tesoro della tomba Qua Lo scrigno Il Sto libro gigante E Nuova abilità Fuoco greco Le fiamme Delle ferce Incendali Delle bombe Molotov Infliggono più danni E incendino I nemici con corazza GG GG Peccato che adesso Non ci serve più A un cazzo Perché insomma La storia L'abbiamo finita I nemici corazzati Li abbiamo già belli Che distrutti Ma Ma È pur sempre Una Un potenza In più Allora Diciamo che adesso Tecnicamente Da qui Dovremmo dirigerci Altrove Corri 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 Perfetto Allora Torniamo su Andiamo all'accampamento Facciamo il viaggio Rapido Il viaggio Lesto E ce ne andiamo Nella valle di Jacob Perché lì abbiamo Altre tre Tombe Da dover fare Bene Bene Benissimo Allora Eccoci qua Nella valle di Jacob In quella che è Questa tomba qui Comunque questo posto È un fottuto labirinto Ogni volta per fare due metri Ci vogliono 3000 ore Perché Tutto quanto I passaggi Sono bloccati Cioè È solo È un enigma Già spostarsi In giro Per Per la mappa Ok Questa quindi Non potevamo farla Perché Non avevamo L'arco Come cazzo Si usava L'arco Ah ok Si utilizzava Così Ok Che cazzo Si ricordava Il rampino Let's get it Ok D'ora in poi È tutto nuovo Per noi Andiamo E scopriamo Quello che ci attende Nuovo accampamento Hai la sconosciuta Tomba Della sfida Opzionale Vai Sprezzante Del pericolo Ok Qui c'è uno Zaino Perfetto Scopriamo Altri segreti Almeno Ok Champ Deb Si si Debo andare Di qua Quindi Eventualmente Si può Salire Penso Per andare via Non lo sapremo mai Forse dopo Vai 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 Salta Se vede Brutto Salta tu Io non so Dove stiamo andando Ma stiamo andando L'importante È questo No 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 Che cazzo Era scriptato Ok Pensavo di aver trollato Io male Fossa del giudizio Tomba sfida Opzionale Oh mannaggia La puttana Vedo già tutti Sti binari Quindi ci saranno Dei carrelli Quindi ci sarà Da bestemmiare Ok Cambeone Però Dove cazzo Dobbiamo andare Perché vorrei Vedere il punto Dove dobbiamo Giungere Da lì Vedere la strada Che dobbiamo Percorrere Da lì Cercare di capire Come dobbiamo fare E da lì Farlo Allora Non sto a capire E fin qua Allora Quello che ci serve A noi Alla giù Dobbiamo sfondare Questa Ok Quindi mi sa Che questi binari A noi ci serviranno Ma In che modo Allora Andiamo a vedere Allora Lì è tutto bloccato Quindi penso Che lì Non ci servirà Quasi nulla Se non Addirittura Nulla Eh Andiamo piano Allora Bastava dirlo Ok Allora Apri un forziere Perché comunque Vabbè Qua ci si trova Comunque roba Sì 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 Allora Senti Io Intanto Questi due Me li collego Così Giusto per Allora Questa si può Far girare Se mi gira Questo qui Mi ruota Perché Difatti Questo sta al contrario Di qua Non può passare Dunque Allora Innanzitutto Questo lo giriamo Allora Mi dai il comando Grazie Eh no In realtà Ok Quindi Tecnicamente Se questo Lo mandiamo Giù Li potrebbe Seguire i binari E sfondare Tutto Ma secondo Secondo Voi È così Semplice So Perché Qua tutti Sti ingranaggi Che possono Girare A me Mi Puzzano Di merda Ora Ora dovrei poter Spingere il carrello Eh lo so Però Io vado un attimo A vedere lì sotto Mi prima Adesso analizziamo E analizziamo Siamo Siamo in fase Di analisi Perché qua Questo pure Può girare Quindi tecnicamente Questo qua Io posso farlo girare Ma per far cosa Cosa mi è Cosa mi è cambiato Da Da quello Niente Perché qui sì Che c'è quest'altra Piattaforma Però Qua puoi ben notare Che è tutto Bloccato Questa però Sicuramente Dovremmo sbloccarla Come cazzo La sblocchiamo Vabbè raga Noi intanto Questo lo spingiamo Vediamo Che succede Intanto Dobbiamo scoprirlo E Se ne va Che abbiamo Che abbiamo già fatto For real Madonna Come salta L'ara Signori Mamma mia Ma come Vabbiamo Cioè Vuoi che abbiamo Risolto Così Cioè Così Sì Eh no Manco per cazzi Vedi Devo Devo sfondare Puri questa Vedi che l'altro Mi serve Il problema È come Cazzo Senti Proverei a far Girare pure Ah Ma porca Di quella Troia Ma questo Praticamente Scende Ma vaffanculo Ah vabbè Ma allora È easy Allora È easy Perché questo Qua Questo lo fai Girare così Questo Gli lo Rispingi Sopra Vabbè È una cazzata È una cazzata È una cazzata Ok 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 Bastava Analizzare Meglio Le cose Dunque Questo Adesso Dobbiamo Riandar Su Ok Però Adesso Devo Riandar Giù Ah no Aspetta Ho capito Allora Questo Gira Di 90 Gradi Verso Destra Quando Saliamo E 90 Gradi Verso Sinistra Quando Scendiamo Quindi A me Mi basta Far Ruotare Questa Crocco Di 90 Gradi A sinistra Qui Giù Poi Andar Su E Questa Ce l'abbiamo Nella posizione Corretta Ok Perfetto È il carrello Adesso Si può Spingere Eh anche Perché Dobbiamo Sfondare Amico Fritz Là Vabbè Tu vai 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 Tanto Ce l'avremmo Fatta Lara Che cazzo Devi saltare Salta Boh Meno male Eh Meno male Vabbè Comunque Era abbastanza Easy Guarda che bel Posticino Qui Comunque Allora Prendi Questo Skip Prendi Questo Bene Che altra Cosa c'è Prendi Questo Perfetto Qui c'è Un faccione Qui in giro Poi non c'è Nient'altro Vai Prenditi Questo E anche Questa Tomba È fatta E è un'ora Che regista Ne ho fatte Due Ne mancano Due Male Però vabbè Taglierò Tantissimo Perché Geologia La conoscenza Già Di Estrarre La Cromite Prima Per Iniziare Le stazioni Quando Sei vicino A una Venna Di Minerale Sotterraneo Ah Sì Perché Mi dà Altre Cose In Più Perché Io ce l'ho Al massimo Però Mi aggiunge Della Roba Più Di Cromite Che Non ho La minima Idea Di A che Cazzo Mi Servi Specialmente Vabbè Adesso Che abbiamo Finito Ha Fottutamente Nulla Però Forse Prima Poteva Essere Utile Chi Lo Sa Vai Lara Che Qui C'era Un Viaggio Rapido Mi Pare C'era Un Accampamento Da Sti Pizzi Perfetto Ragazzi Siamo Arrivati Nel Luogo Della Terza Tomba Di Oggi Ok Di Qua Le Sghere Allora Perché Non L'avevo Fatta Quella Volta Non Lo So Ah Probabilmente Perché Ho detto Vabbè Tanto ormai Le faccio Tutte Quante Alla Fine Quindi A questa Non ci Vado Proprio È Probabile È Probabile Aria Sconoscerò Dom Dello Sfido Opzionale Perfetto Ci 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 Siamo Attraversiamo La Cascata Boh Tanto Acqua Più Acqua Meno Passa Di qua Io Già che Vedo Questo Palo Colleghiamo La Ok ho visto una cosa interessante Al di là di questo muro Scendiamo le scale Madonna ragazzi Comunque Le mappe di Tomb Raider Sono sempre le migliori C'è poco da fare Eh mettici Mettici le caramelle Allora Ok proseguiamo di qua Questo è l'accampamento Perfect Ci siamo Catacomba delle acque sacre Ladies and gentlemen Tomba della sfida opzionale Prendi qui Il document Che Schippiamo Immediata Subito Allora Sempre che il punto di domanda Per cominciare È Dove dobbiamo andare Potrei usare L'altro rotolo Per avvicinare La lettera di spazio Eh si Però io vorrei Eh Vabbè senti Famo Famo così Intanto allora Che ti devo dire Intanto L'avviciniamo A quanto pare Questa Eh Ok Quindi tecnicamente Io adesso Devo far così Così veniamo Trasportati Di qua Madonna mia Non lo so se andava giù Però Nel dubbio L'abbiamo salvata Pelo pelo Vabbè Qua ci stanno i sordi Qua ci stanno Ah sta là Un'altra zatter Vabbè quindi Questa neanche serve Allora Ah no ma quella Non casca Vabbè 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 Ma allora Allora se noi comunque L'agganciamo Perché poi Vorrei provare Ad andare Lì sopra Tira Tira Ah quella è bloccato Fuc Taglia 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 la corda Insomma Mi sa che non si poteva fare Dobbiamo tirar fuori Questa Ok Ok Questa c'ha anche Un timone Ah Ecco Con questa Possiamo scegliere Allora Vuoi che Maybe È meglio Se l'attacchiamo Ok Vai 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 No no Sali 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 Questa rimane qua Mi aspetti qui Grande No Più che altro Perché voglio capire Dove cazzo Dobbiamo andare Perché qui Insomma Mi sembra un po Ah no Ma Vabbè Ma questo è stato Di un easy Imbarazzante A parte che siamo morti Due tre volte Ma Quelli sono dettagli È stato È stato easy Ah vabbè Allora Madonna Mai tomba è stata più semplice Cioè nel senso Abbiamo sofferto più in altre Conoscenza anatomica Ovvero Quando usi l'istinto di sopravvivenza O miri verso la preta Percepisci la posizione del cuore degli animali Colpisci l'animale L'acquale Invece danni Bastanti Animali La pelle spesa Ad esempio Orsi i grandi felini Sono immuni ai colpi al cuore Prima di te Per attivare l'istinto E poi mirare verso l'animale Ok Ok Dunque Oui 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 Ce ne potemmo Dai Allora signori Pronti per la sfida L'ultima tomba di oggi Allora Siccome qui abbiamo Sempre la possibilità Che ci sia un orso Prepariamoci Come abbiamo affrontato Quello all'inizio dell'episodio Dagli un fuoco Come fra E non l'abbiamo neanche Fatta avvicinare Ladies and gentlemen Non l'abbiamo neanche Fatta avvicinare Come siamo migliorati Signori Oh yeah Oh yeah Perfetto 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 Duncus 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 Vai vai Sì sì Scuoia Scuoia Alla grande Mofra Perfetto Allora Sfondiamo La porta Che ci condurrà All'ingresso Della tomba Vai Lara Ora Dove andremo a finire Non si sa Vai vai Diriggiamoci Avventuriamoci Ah io avevo anche La batteria del Del pad Che si stava Esaurendo Area sconosciuta Tomba della sfida opzionale Ma non so ancora dove Aspetta Allora Proseguiamo Di qua Anche perché La strada Questa è Per il momento Ma in che senso Io credo Deba andare lì E siamo morti E va bene Così Aspetta Un secondo Vuoi che non debba Andare di qua E no Però la strada Solo questa Scusi eh Un attimo Un secco Perché a volte Qui La cosa più difficile È anche capire Come cazzo Ci si arriva Allora Ok Ok Devo camminare Fermo Fermo Vai 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 Perfetto Eh la madonna Raghi Ma Che cosa Mi stai dicendo Vabbè questa Poi ci serve Per scendere Nuovo accampamento Scoperto Ok Siamo in dirittura Della tomba Oh Qua c'è una trappola Ma che siamo matti Volevi Ok Barattolo da ore Sì sì Ok Ecco il bivio Su giù Asente Andiamo un attimo su Perché giù Lì ho visto Che c'è tipo qualcosa Da sfondare Qua c'è un documento Da prendere Eh i fiumi I fiumi I fiumi I laghi Indutti i laghi Indutti i mari Indutti i fiumi Indutti i mari E qua Non c'è un Carlo Giusto Giusto Questa è Vuota Completamente Questa è da sfondare Eh sì Come la sfondiamo Così? Non così Ah C'era un passaggio Bagni di Kitesh È un bagno pubblico Che vuol dire Che quest'acqua Mi stai dicendo Che Insomma Insomma Quindi mi tocca buttare Oh Andiamo Ragà Ok Devo andare Di qua Arie Ecco le barche E sicuramente Cioè Altrimenti Non saremmo qui Allora però Allora innanzitutto Facciamo così E iniziamo A metterci Al centro Della stanza Allora Lì c'è Quello Lì c'è Quello Non lo sappiamo Ma sicuramente Dobbiamo Immergerci Allora Di qua Difatti Ci sono Delle scale A cosa Mi portano Oltre che A questo documento Al fatto Che qui C'è Questa cosa Da dover rompere Quindi Facciamo Così Ok 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 Questa è la porta Che prima Perfetto Perfetto Quindi si rompeva Da di qua Dunque Adesso Stiamo Entrati Da questi posti Qui c'è sempre La barca Ok Di qua Non c'è più Niente E ragazzi Analizziamo E vediamo Cosa scopriamo No io ci sto entrando Dentro lo schermo Perché sta infognando Un pelo Ok Ok con la barca Dobbiamo raggiungere Qui Allora Dobbiamo raggiungere Quelle protuberanze Ok Perfetto Allora Vai Fai così Vai vai Tira 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 Perfetto Ok Andiamo Di qua E siamo Di qua Qui c'è Una corda Un rotolone Di corda Qui siamo Su delle scale E qui c'è Questo qua Che sicuramente Mi permetterà Ok 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 Facciamo scendere L'acqua Ha funzionato Allora L'abbiamo fatto Abbassare un Ah no Aspetta Ah ok Dobbiamo essere Rapidi Vai Ficcalo Eh Eh Perché questo Va bloccato In qualche modo No Sì Perfetto Questo rimane Bloccato Ok E una parte L'abbiamo fatta Adesso Eh la madonna Qua si è sceso Tutto il cristo Però Allora Fermo Dobbiamo andare Di là Quindi Eh Facciamo così Leghiamo Qua E Giriamo La manbassa Ok Dove siamo Dove siamo finiti Adesso Non lo sappiamo Però lo scopriremo Allora Innanzitutto Andiamo di qua Che sappiamo Che questo Ci farà abbassare Il livello Dell'acqua Un altro scarico Sì Lo sappiamo Questo potrebbe essere Un problema Allora Lì per uscire Però se noi Lo abbassiamo Che cazzo Può succedere Non lo so Allora Senti Facciamo scendere L'acqua E vediamo Che succede Ah Vuoi che forse Dobbiamo legargli La barca Oddio Sai che Potrebbe essere Probabilmente Se gli leghiamo La barca Rimane abbassato Perché Ovviamente Lì ci sono Quei legni Che sicuramente Faranno Da Da tappo Tra virgolette E ci permetterà E ci permetterà Di tenere Questo bloccato Perché non potrà Andare indietro Perché ci sarà La barca Che farà Da ancora Quindi Tu vai Falla abbassare Tutto Ok Adesso non ci resta Altro che Andare Andare Sulla barca Sulla barca Vedi 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 Gira 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 Giralo Vedi Che adesso Questa Fata Zavorra Perfetto Adesso Ok Questi si fanno Esplodere Così Ed ecco Il passaggio Aperto Mamma mia Signori Che IQ Vabbè Diciamo Che all'ultima Tomba Più o meno Abbiamo iniziato A capire No Come potesse Funzionare Il tutto Ok Un'ora e mezza Che registro Insomma Voglio vedere Quanto cazzo Esce lungo Questo video Vabbè A noi Non ci interessa Bene Così Anche L'ultima Tomba Signori È stata Fatta Per dire Signor L'ha rampicato Su roccia E ghiaccio Questa Poteva essere Utile Ma ormai Tanta Cosa Non ci sia Vabbè Tomba completata Bagni Di Kitesh Signori Io dunque Me ne andrebbi Da questo Luogo Nefasto Guardate Che cos'è Qua Monete Prendi le monete Perfetto Signori Usciamo Da qua Usciamo Da qui Passiamo Sotto La trappola Andiamo All'accampamento Signori Io qui All'accampamento Vi saluto Vi invito A lasciare Un like Un commento E di iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Signori Anche questo Effettivo Grazie Fotocamera Per avermi messo Ok Anche questo Effettivo Ultimo episodio Di Rise of the Tomb Raider Si conclude qui Come promesso Vi avevo detto Che dopo la storia Ci saremmo fatte Le tombe rimanenti Erano 4 Un'ora e mezza Che registro Non so Quanto avete visto Signori Io Non mi dilungo troppo Ci vediamo noi Un prossimo Video Sul canale Quindi iscrivetevi Per restare sempre Aggiornati E non perdervi Le novità Che ci saranno Sul canale Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti